Gesù, innocente e buono, muore brutalmente tra due amalfatori. Perché lo ha fatto? Avrebbe potuto risparmiarsi la vita, avrebbe potuto tenersi a distanza dalla nostra storia più misera e cruda. Invece ha voluto entrarci dentro, immergersi in essa. Per questo ha scelto la via più difficile, la croce. Perché non ci deve essere in terra nessuna persona tanto disperata da non poterla incontrare. Proprio lì dove si pensa che Dio non possa esserci, Dio è giunto. Per salvare chiunque è disperato, ha voluto lambire la disperazione. Per fare suo il nostro più amaro sconforto, ha gridato sulla croce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che salva. Salva perché Dio ha fatto suo perfino il nostro abbandono. E noi, ora, con Lui, non siamo più soli. Mai.